Si è chiusa con la richiesta di quattro rinvii a giudizio l'indagine aperta dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania sulla tragedia nella Grotta degli Occhi di Palinuro. Il 1 ottobre si terrà l'udienza preliminare per Mauro Navarra, titolare del Diving Center Pesciolino Sub di Palinuro, Stefano Davac e Marco Sebastiani, entrambi istruttori e dirigenti della Big Blue School di Roma, dove i sub avevano preso il brevetto un mese prima dell'incidente. Il capo di imputazione di omicidio colposo, tra gli imputati anche Annalisa Lupini, moglie di Stefano Davac, anche lei istruttrice della scuola romana, il 30 giugno del 2012 non partecipò all'escursione costata la vita a quattro persone poiché era in attesa di un bimbo. La donna è stata comunque rinviata a giudizio per concorso in omicidio colposo poiché da istruttrice e quindi da esperta non ha impedito il fatto. Nell'udienza preliminare il gruppo verificherà la veridicità dell'accusa o meglio il gruppo accoglierà o meno la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal PM dopo quasi due anni di indagini preliminari affinché venga celebrato il processo a carico degli indagati. Doveva essere una tranquilla escursione in mare per ammirare i fondali della costa cilentana, invece dalla grotta maledetta quattro dei nove sub che stavano partecipando all'immersione non sono più tornati indietro. A perdere la vita gli escursionisti Susi Cavaccini, Telios Panaiotis, Andrea Pedroni e la guida del diving pesciolino sub Douglas Rezzo. Inizialmente anche Douglas era stato iscritto nel registro degli indagati. Gli avvocati Silverio Sica e Benedetta Sirignano, legali di Telios Panaiotis, si dichiarano soddisfatti del lavoro svolto della Procura della Repubblica di Vardo della Lucania. Ci auguriamo, dicono, che attraverso il processo si possa giungere all'accertamento dei fatti di causa e delle responsabilità penali sottese all'accaduto. I quattro sub deceduti si erano immersi con un gruppo di nove persone. Erano le 11.30 del 30 giugno del 2012. L'escursione sarebbe dovuta durare una ventina di minuti, ma solo in cinque riuscirono ad uscire e furono loro a lanciare l'allarme. La tragedia avvenne in un ramo infangato della Grotta degli Occhi. L'intero gruppo fu trovolto dal fango. I più fortunati, Maria Laura Moschera, fidanzata di Panaiotis, Salvatore Passato, Giuseppe Mastro Ranni e i due istruttori, Marco Sebastiani e Stefano Davacca, oggi indagati, riuscirono ad uscire, gli altri persero l'orientamento e morirono per annegamento. Il panico avrebbe giocato al loro sfavore, si sarebbero agitati nel tentativo di uscire e così avrebbero non solo smosso maggiori quantità di fango, ma avrebbero consumato anche più ossigeno. Le approfondite indagini, coordinate dal sostituto procuratore Renato Martuscelli, ora passato alla procura generale di Salerno, e dal procuratore capo Giancarlo Grippo, hanno consentito di avere un quadro ben preciso di quello che è accaduto all'interno della grotta. Pare infatti che Douglas Rizzo sia entrato nel rame infangato solo dopo gli altri sub, quindi il ragazzo non ha esitato a tornare indietro e ad inoltrarsi nel cunicolo infangato pur di recuperare i suoi escursionisti.